buongiorno ragazzi oggi è domenica e purtroppo vanessa non sta bene adesso ve la faccio vedere qui c'è anastasia anastasia unicorno stamattina fatti vedere amore come sei bellina vestita da unicorno col pigiamotto andiamo a vedere come stava nessina buongiorno amore come stai malissimo questa è la situazione si è svegliata stamattina alle 6 e mezza e ha rimesso e aveva la febbre a 38 e 7 niente ha rimesso ancora qualche mezz'ora fa gli ho dato una spremuta forse ho sbagliato e lei ha rimesso vanè vanè guardami un secondo non riesci ti dà fastidio la luce ragazzi ha acceso la luce per farvela vedere ma lei dà fastidio quindi ci vediamo più tardi e niente ragazzi vanessa si è presa il virus della gastroenterite che sta purtroppo circolando in questo periodo ci sono tantissime persone tantissimi bambini colpiti appunto da questo virus e siamo riusciti a beccarlo anche noi il problema è che noi tra tre giorni dobbiamo partire per roma infatti vero anastasia dove stai vero tu giochi sempre e scrivi sempre tantissimo sei molto brava e quindi non so se riusciremo a partire mannaggia noi questo viaggio a roma non riusciamo proprio a farlo solo che insomma abbiamo già pagato tutto anche l'alloggio in cui andremo a vivere vedremo vedremo come andrà domani al massimo dopo domani deciderò cosa fare se disdire tutto oppure no lo so amore che vuoi partire solo che se vanessa non sta bene non si può partire e se domani vanessa starà ancora male esattamente come oggi sarà molto probabile che noi non partiremo ci aggiorniamo tra poco ragazzi allora ragazzi ho misurato la febbre vanessa e alla febbre 39 adesso sta dormendo io anastasia siamo qua in camera adesso ci guardiamo un film e aspettiamo che vanessa si svegli si è addormentata poverina perché tutti stavano dormendo tranne me e gasper io mi ero addormentata anch'io sì sulla poltrona ma adesso preferisco sdraiarmi un po sul letto perché sono veramente stanca stamattina mi ha svegliata alle sei e mezza che appunto stava molto male e quindi adesso ho bisogno di fare un riposino domani non va a assolutamente a scuola tu sì certo tu domani vai a scuola sei tutta sporca perché ti sei mangiata i baci di dama va bene ragazzi adesso anastasia si cambia perché aveva molto caldo con quel pigiamone unicorno è veramente molto caldo è la ti sei cambiata ok andiamo giù perché papà è venuto su e non mi va di lasciarla da sola va bene così andiamo a vedere se per caso le sia abbassata un pochino la febbre è bellissimo amore solo che tanto caldo sai questo pigiamotto quando va bene quando andiamo in montagna quando andiamo in montagna secondo me va bene possiamo provare è va bene sentiamo a vedere come sta l'avane e tu cosa guardi un po youtube è va bene dove sei ecco ma lascialo qua il gatto che problemi ti lascialo qua lascialo tranquillo ragazzi vanessa sta dormendo no ciao amore dormi dormi non ti volevo svegliare è calda qua c'è la sua bacinella perché purtroppo vomita spesso dormi amore vanessa si sta svegliando guardate come rossa in faccia poverina amore come stai eh malissimo eh stai male amore sei un pochino meglio ti ho messo il ghiaccio in testa perché sei caldissimo non è vero no amore sei caldo sai tutta la faccia rosso vuoi che ti faccio le caviglie col ghiaccio saranno fredde sicuramente però ti ti tolgono la infiammazione della febbre proviamo amore guarda che è meglio che ti sto lontana ma che ho pure di ammalarmi anch'io stai facendo non urlare che vanessa non sta bene ma cosa fai ti stai facendo un massaggio rilassante due massaggi e il secondo ah è già il secondo beata te a ma non ti fai male alle mani da te non te le schiaccia nemmeno come dovrebbe secondo me si fai il massaggino amore te come va amore beh diciamo che per avere la febbre 39 ti vedo abbastanza vigile forse con la supposta adesso è scesa un pochino la nausea ce l'hai per adesso no guarda cosa ce l'ha la cioccolò è se dovesse arrivare all'improvviso ok dopo vi farò vedere il segno che aprò sui piedi dici no lascia i segni è fatta posta e non lascia i segni e non farlo se fa male scusa toglili hai fame amore vuoi un biscotto vuoi un bacio di dama sono contenta te lo porto subito amore tieni amore adesso te lo apro sai cosa faccio dopo volevo fare una ciambella no allo yogurt e i mirtilli e invece sai cosa faccio faccio i baci di dama con le mandorle anziché le nocciole le avevo già fatti ed erano venuti buonissimi ma a me piacevano sì come no gli stessi biscotti però li faccio io però però no amore sono gli stessi sai le mandorle quando le tosto dentro la padellina e ti piacciono vero e quindi il procedimento è quello si tostano 100 ma 100 grammi di mandorle poi si frutta 100 grammi di mandorle si frullano e dopo si fa l'impasto con la farina e il burro ma a te quale dolce non piace scusa non esiste un dolce che non ti piace certo che ti piacciono anzi poi mi aiuti a fare le palline ok ti sei alzata che bello ciao amore sono contenta stamattina ha fatto le creppe a nutella mi sono uscite male non mi chiedere perché probabilmente ho messo poca farina ma sì erano buoni era una crepe però mi usciva mi è uscita un po' molle perché secondo me non ho messo abbastanza farina ma c'è l'impasto lo vuoi no no vero sei tranquilla non mangiare troppi dolci perché adesso stai bene perché si adesso volevo riposarmi ma mi sa che abbandonerò questa idea guarda che adesso ti do due scappellotti cosa hai fatto perché è utile le briciole per terra e poi c'è il gatto che passa e ispira tutto allora questo è il tuo terzo bacio dopo di che non è qua 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 e poi dopo mi mangio quella una si voglio assaggiarli basta anastasia basta nutrirsi di dolci basta eh quali certo dopo vuoi farli con noi se te la senti ti lavi bene le mani che le disinfetti guarda io sono sicura che non ce la farai adesso come ti ad alzarti in piedi no 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 sei senza calze non lo fare non lo anastasia vanessa adesso hai la tachipirina in corpo avevi la febbre 39 un'ora fa e 39 alta non non esagerare perché poi stasera rischi di averla 40 comunque mettete in conto certo ti alzi va in bagno fai anche pipì se vuoi ti dico solo una cosa vanè che secondo me a roma non riusciamo ad andare non credo che tu oggi hai la febbre 39 e domani non ci credo non credo che tu domani possa essere completamente sfebrata quindi sono sicura che purtroppo a roma noi non andremo se papà e daniel e anastasia vorranno andare io sono felice però un giorno a scuola c'era nostro compagno adesso non mi ricordo chi forse martina è praticamente non è venuta due giorni a scuola perché aveva tutti i giorni ha iniziato da mattina come me la febbre a 41 infatti due giorni infatti non 4 ma infatti io ho paura che a te si si alzi ancora di più e invece la mattina cioè il pomeriggio del secondo giorno è passato poi scendevo piano piano sì ma ho capito ma vanessa ma se tu oggi hai la febbre a 39 domani ancora hai la febbre alta ma anche se tu domani facciamo finta che tu domani non hai la febbre sarebbe lunedì se tu domani per puro miracolo sei sfebrata ci si può pensare ma in questo momento non ci credo che tu domani sia sfebrata ok perché comunque oggi è la febbre a 39 e al massimo domani puoi iniziare a scendere se va bene cosa stai facendo guardatemi tutti come sono brava a cadere dalla poltrona e a farmi del male ma perché sali sul tiragraffi di gas per se si rompe e comunque dai se non partiamo stiamo con gas per guarda se volete andare più che volentieri o sarei con sarei contenta poi prima di partire l'uomo con papà e tanto fate una foto io e te con vanessa così andavo da letto penso di essere tutte e tre con la foto scrivetemi nei commenti se voi avete visto questo film quel nana infame se non l'avete visto è su netflix andate a vederlo perché è bellissimo è vero bello e se voi non l'avete visto il film dove c'è una bambina mercoledì andatelo a vedere sì e noi l'abbiamo già visto due volte il nana infame perché è troppo simpatico guarda stavi per fare il canestro nella ciotola nel recipiente dove vanessa rimette però io che ho lavato ovviamente Ani stop non iniziare a diventare oca allora facciamo una cosa sparecchio i piatti che di oggi del pranzo e poi iniziamo a fare i biscotti non agitare vanessa non lo fare non lo fare non fare agitare vanessa ok amore nel frattempo tu stai tranquilla ancora un pochino rilassata ok e la mamma poi ti chiama vai amore ad andare in bagno ci sono un piano amore mi sono rilassata sempre malata vanessa ti amavi sempre come quest'estate al mare ti eravete un petrone sei sempre in mezzo alle scatole ecco l'ho comprata la maglia perché noi ce l'abbiamo da anni e non l'abbiamo mai guardata è bello sono i gines dei primati ma nell'anno 2021 dell'anno scorso grazie del consiglio allora ragazzi questa cosa dovete comprare subito ma cosa? contate fino a tre mamma conta 1 2 3 1 2 3 adesso chiudi gli occhi e conto fino a 4 oh madonna santa 1 2 3 4 dai e quindi che devo andare a fare i bacetti? a 3 adesso conto fino a 3 con gli occhi ma ho già contato fino a 7 cioè non è successo niente 1 1 poi me ne vado eh 1 2 3 4 occa miseria vane come stai? stai ancora bene? te la senti di fare i bacetti? si? allora ascolta adesso preparo l'impasto e ti chiamo va bene? bimbe state lavando le mani? bravissime dai che venite a fare i dolcetti te la senti Vanessa di stare in piedi? ok puoi anche star seduta eh vieni amore però non devi tostire sui dolcetti eh possibilmente ok amore è già diventata alta mamma mia ancora un giorno di febbre e mi superi hai freddo amore ma qua ci sta bene? si è più caldo di qua e beh c'è anche il forno acceso eh quindi dai pazze allora Anastasia ti ricordi cosa devi fare? no le palline e le schiacci un pochino ma come fai poi? lo devi poi tagliare dentro perché dentro ce le devi mettere ma no si fanno tante palline allora Vanessa fai una pallina e poi la presti leggermente quando la metti sul vassoio prova no non cominciare eh ma si può mangiare? no non si può mangiare si è tutto crudo c'è la farina cruda che schifo vai si dai una pallina eh non dovete metterci un quarto d'ora palline ok dai vediamo un po' bene dai su quando Vanel se non te la senti più guarda così mamma si però cerca di farle un pochino più grosse però è un altro tipo pezzo eh ma così va bene? si ma è troppo piccolo altrimenti si brucia il forno ok? ma perché si brucia? ma perché si devono cuocere tutti nella stessa maniera se uno è più piccolo si cuoce prima e poi si brucia se non sono tutti uguali ok amore? così va bene ecco così va benissimo bene? si perfetto la mia vale la mia vale cosa hai fatto? le sacciate? niente guarda che non devi mettere le mani in bocca eh quando si cucina posso fuggere? no c'è la farina ma che schifo la farina è cruda a me piace crudo si la farina cruda certo buonissima è il tuo piatto preferito eh Vanessa va bene perfetto non voglio più fare no amore non farli più se non te la senti no me la senti però non ci vuoi e non farli vai sul divano Vanessa hai la febbre alta eh io lo sapevo già cosa credi vai però a farli bene vai sul divano e rilassati non stancarti troppo dobbiamo evitare che la febbre ti si alzi ok? Anni è piccolo si mamma però tu guarda la storia perché li fai piccoli li fa così stai mangiando amore i bacetti? abbiamo fatto i biscottini li riempiamo di nutella e Vanessa si li mangia anche Anastasia vabbè ma non avevamo dubbi non esagerare eh però Vanè perché poi magari stai male ancora ok? cosa c'è? allora sono le dieci e quasi un quarto Vanessina oggi sei stata abbastanza bene diciamo che dopo il febbrone a 39 ti è scesa a 37 e mezzo adesso mi sembri ancora un pochino calda la stiamo misurando e poi andiamo a dormire e speriamo in bene che tu riesca a guarire prima di mercoledì allora aspettiamo qualche minuto così vediamo quanta febbre hai va bene amore? tu come ti senti in generale? mi è bene ti senti bene però un pochino meno di oggi dimmi la verità oggi ti sentivi un pochino meglio non meglio no? ti senti comunque bene? io ti sento un po' caldina adesso vediamo no io mi sento calda però dicono che quando ti senti calda le altre persone non ti sentono fredda e io dico oddio sono pulente ho la febbre invece no invece quando io mi sento fredda ho la hai la febbre io mi sento calda no ma sei calda quindi hai la febbre e adesso vediamo vediamo quanto ok? ok allora Vanessa ha tolto il termometro vediamo quant'è 37 e mezzo vabbè questo termometro non è quello digitale quindi bisogna vedere la linea e già è sfocato poi in lontananza non si vede niente comunque Vanessa 37 e mezzo quindi io la tachipirina non te la metto se stanotte ti svegli e stai male mi chiami e ti metto la su posto ok? guardatevi ragazzi cosa c'è Anastasia e poi andiamo a dormire che sono molto stanca 3 1 2 guarda che tu cade e ti fai male 1 2 3 4 6 6 7 va bene dai sei stanca anche tu allora amore salutiamo i nostri amici e e speriamo di partire tra 3 giorni va bene allora ragazzi allora ragazzi il video è finito qui tu la sera sei ubriaca allora ragazzi il video è finito qui si il video è finito qua e Vanessa salutali tu dai ragazzi il video è finito qua ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like per questo video ciao ciao